La città di Agrigento e le prossime amministrative in primavera per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Sulla prima delle pagine di Agrigento del giornale di Sicilia in edicola domenica 28 agosto è stato pubblicato ovviamente su commissione un messaggio rebus che rivela la scritta Salvare Agrigento ed un punto interrogativo. Nella Bibbia Noè costruì una barca, l'arca di Noè, per sfuggire alla diluvio universale e per salvare la specie umana e gli altri esseri viventi. Ancora nella Bibbia gli ebrei, capitanati da Mosè e in fuga dall'Egitto, con l'aiuto di Dio attraversarono il Mar Rosso perché le acque si ritirarono e loro si salvarono. Oggi, alcuni millenni dopo, il mito del salvataggio eroico, quasi biblico, è stato annunciato sul giornale di Sicilia. Sulla prima delle pagine di Agrigento è stata pubblicata una sorta di geroglifico, un rebus tanto che tanti hanno pensato che il quotidiano, come la settimana enigmistica, avesse regalato ai suoi lettori un passatempo domenicale, uno strizza cervelli. Eccolo qui, tanti numeri disseminati a casaccio, un disegno apparentemente non decifrabile. Poi, invece, l'arma della pazienza ha svelato l'enigma. Infatti, pazientemente legando i numeri in ordine crescente, dall'uno in poi, ecco che il messaggio subliminale assume materialità e si materializza. Chi non avesse provato, provi, altrimenti risolviamo subito. Le stelle del firmamento dei numeri disegnano la scritta salvare Agrigento, punto interrogativo, anche se il firmamento non è firmato. Salvare Agrigento, chi, quando, perché e soprattutto come? L'interrogativo arcano non è rivelato. Chi sarà il Noè, il Mosè, che intende caricarsi biblicamente, dico tanta responsabilità? Sarà forse un Noè capace di costruire un'arca tanto solida e capiente, da resistere e superare il diluvio atavico, che piove da decenni sulla ex città più bella dei mortali? Sarà forse un Noè, pronto a orientare e guidare il suo popolo verso il riscatto, fuggendo dalla oppressione e dalla maledizione della rassegnazione di Tomasi di Lampedusa o della apatia di Pirandello? Chiunque egli sarà, forse, prima o poi, si rivelerà quasi come un Messia e noi lo scopriremo solo vivendo, come canta Lucio Battisti nella canzone Il Nastro Rosa. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincero.